Hanno tentato di svaliggiare la farmacia dell'ospedale degli incurabili ma non ci sono riusciti. Un piano costruito nei minimi dettagli è andato in fumo perché i tre malviventi sono stati visti allontanarsi furtivamente con un borsone stracolmo di scatole di medicine ma non solo. Nella borsa lasciata aperta avevano guanti e cacciaviti che hanno utilizzato per lo scasso. Il piano è saltato perché una guardia giurata che sorvegliava l'ingresso dell'ospedale da diverse ore ha visto i tre giovani uscire dalla farmacia. Quando si sono accorti che il vigilante li aveva scoperti i tre malviventi hanno abbandonato il borsone e si sono dati alla fuga. Così il vigilante ha immediatamente allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che sono intervenuti ma i tre giovani sono riusciti a scappare. Uno dei borsoni era pieno di prodotti farmaceutici che sono stati recuperati e restituiti dai militari al responsabile della farmacia giunto sul posto poco dopo. Adesso i carabinieri stanno indagando per identificare i tre malviventi che dovranno rispondere del reato di furto con scasso.